...nelle temperate regioni dell'Ovest degli Stati Uniti. La Valle del Sole, che si apre ad un'altitudine di 1800 metri, offre il contrasto di campi di neve in uno scenario quasi primaverile. Ecco una piscina all'aperto, rifornita di acqua da una sorgente calda naturale. Una comoda poltrona teleferica che compie agevolmente le salite e sempre presa d'assalto dalle sciatrici. La Valle è così ben riparata dai venti che vi si può impunemente praticare l'elioterapia d'alta montagna in costume da bagno. La Valle del Sole